Ecco, mentre va via il gruppo di Trostè, io vorrei chiamare ancora una volta, se fosse possibile, vi prego di fare un po' di attenzione, soprattutto i gruppi responsabili, tra i gruppi che hanno invece avvicinato, di Tart, di Colosso, di... Ripeto, questi gruppi che ho appena citato devono portarci a... Dunque, questo tipo di espressione di cultura popolare sarda, e quindi l'intento era proprio questo. Hanno scritto apposta, proprio da pochissimo, un canto che sentirete subito dopo le prime ottave di saluto, ed un canto attuale di un poeta di Danusei, e si titola Puvittetta Mia. Poi invece seguirà un altro canto di un testo di Paolo Mossa, che si titola Prores de Mendula. Quindi vi presento subito i componenti, il coro Atenores Ogliastra di Danusei, la voce di Giorgio Usai, Contra Pietro Secci, Mesuoghe Donario Digozzi, Basso Carlo Pistis. Bene, siamo a posto, grazie e prego al gruppo tenore soglianto di Lanusei. Da esotra o eservenido, la justa festa di su redentore, cantos van los costumnes violidos, de mille, mille splendidos colores. e che ho e pagos bortas e zumbidos, cantos van los cantos e temores, e che ho e pagos bortas e zumbidos, cantos van los cantos e temores, e noi ci sono venidos a cantare, a pagare festa e a vos saludare. e noi ci sono venidos a cantare, a pagare festa e a vos saludare. e noi ci sono venidos a cantare, a pagare festa e a cantare, e a pagare festa e a cantare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.